La Capsula del Tempo Ascoltami bene, so che sembra strano Ma ho abbinato questi numeri alla data di ogni disastro degli ultimi 50 anni In sequenza perfetta Terremoti, incendi, tsunami Il prossimo numero della sequenza prevede che da qualche parte del pianeta 81 persone moriranno in qualche tragedia Deve scendere Perché? Che succede? Faccia quello che le dico, scenda Nello spaventoso incidente hanno perso la vita 81 persone I numeri sono un avvertimento Che succede quando la sequenza termina? Segnali dal futuro Che succede quando la sequenza termina? Che succede quando la sequenza termina? Che succede quando la sequenza termina? Occe torna la negazione? Grazie a tutti